Oggi prepariamo un bel cosciotto di agnello con patate al forno. Gli ingredienti sono Cosciotto di agnello Patate Un battuto di lardo con l'aggiunta di rosmarino, origano, aglio a chi piace, semi di finocchio, sale, pepe quanto basta. Sale Del pepe macinato Origano E del rosmarino Mettiamo tutto nella padella E portiamo in cottura L'agnello è pronto in teglia Ora Lo mettiamo in forno Ad una temperatura di 200 gradi E lo cuociamo per circa 45 minuti Grazie a tutti Grazie a tutti